Sì, è esagerato proprio, è il scienziario. Odore a azione. Non è necessario che si mette molto in fondo, l'importante è che copiate, fatevi una barriera davanti il volo, si vede il volo. Ma no, no, ti ne metterò. C'è un'altra cosa? C'è un'altra cosa? C'è un'altra cosa? Sì, sì, sì. io ci sto io mi sto comunque se vi dovete avvicinare da qualche parte voi considerate sempre quello che cazzo che cosa fa la prova? è una prova, non lo so non è una prova che cazzo ma non devi ma non devi non devi arrivare qua io ci sono io ci sono la prova che ti piace la giornata? ah, fatti arrivare a nasce ciao ah, fatti arrivare a nasce ha, fatti arrivare a nasce ha, fatti arrivare a nasce ah, fatti arrivare a nasce ah, fatti arrivare a nasce e fatti arrivare a nasce Grazie a tutti.